Pubblicata la graduatoria delle stanze ammissibile al finanziamento del programma Mangiaplastica con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha promosso l'acquisto di eco-compattatori, cioè macchinari in grado di ridurre il volume e favorire il riciclo di bottiglie per bevande in pet da parte delle amministrazioni comunali. È stato approvato con decreto dello scorso 27 gennaio l'elenco dei beneficiari del contributo per il 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 16 milioni di euro. 712 progetti finanziabili con fondi fino a 15 mila euro per un eco-compattatore di capacità media e fino a 30 mila euro per uno di capacità alta. Di tutti questi progetti una quarantina sono quelli presentati dai comuni dell'area sud di Salerno, un po' pochi per un'anima verde del territorio, spesso sbandierata ma poi ne fatti poco perseguita ed è soprattutto il golfo di Policastro ad essere praticamente quasi del tutto assente. Sono stati giudicati finanziabili solo i progetti dei comuni di San Giovanni Appiro per una cifra di 27 mila 450 euro e di Tortorella 14 mila 762 euro. Invece ottiene anche un buon piazzamento, sedicesimo posto nella classifica generale e primo dei comuni dell'area sud del Salernitano, Caggiano, con il suo progetto da 14 mila 900 euro. Complessivamente anche nel Vallo di Diano sono poche le stanze presentate dai comuni del comprensorio. Oltre a Caggiano potranno avere il loro eco-compattatore, migliorando la differenziata e lo smaltimento della plastica, i comuni di Sant'Arsenio, Salvitelle e Piaggine. A fare la parte del Leone soprattutto il Cilento. Tra le domande ammesse a contributo per quest'area troviamo quelle di Stella Cilento, Cuccaro, San Mauro Cilento, Futani, Alfano, Casalvelino, Castellabate, Novi, Castelnuovo, Cannalonga, Moio, Gioi, Pollica, Roscigno, Rocca d'Aspide e Vallo della Lucania, quest'ultimo con il suo progetto da 29 mila 158 euro. Non sono invece risultate finanziabili le domande presentate dai comuni di Capaccio, Montesano sulla Marcellana e Atena Lucana.